L'assurdo qual è? Che prima depotenziano e declassano gli ospedali di periferia ma soprattutto le eccellenze perché quelle ci stanno molto a cuore a noi. Gastroenterologia di Penne, che era un'unità operativa semplice dipartimentare, è stata declassata in un'unità operativa semplice che significa che è stata posta, privata dell'autonomia, privata del primario, è stata posta sotto alla direzione dell'unità operativa complessa di Pescara. Ed oggi l'assurdo, il paradosso è che l'azienda sanitaria locale chiede in prestito a Penne due macchinari importantissimi di questa eccellenza per due giorni a settimana e mi riferisco all'endoscopio e al duodenoscopio. Sono due macchinari importanti e l'assurdo che un camioncino dovrà partire da Penne e caricare questi due macchinari che non sono macchinari portatili ma importanti, portarli a Pescara con tutti gli sprechi di denaro pubblico, con le sollecitazioni che possono compromettere anche la stabilità e il funzionamento di questi macchinari, ma privandoli a Penne che fa dei numeri elevatissimi. Penne attrae, fa mobilità attiva, fa oltre 600 esami diagnostici di endoscopio all'anno, attirando persone dalle altre parti delle province ma anche da fuori regione. Quindi queste eccellenze vanno fatte restare, i doppioni, le altre cose possiamo anche discuterne, ma non le eccellenze. Noi cosa diciamo? Che Pescara, l'ASA di Pescara, che è già assurdo che non ha questi macchinari, se proprio li vuole, se deve fare, basta acquistarli, bloccare i grandi sprechi di denaro pubblico, stiamo sprecando soldi, paghiamo 8 mila euro al giorno di affitto per alcuni macchinari, mi riferisco alla petta, che non servono e si potrebbero tranquillamente acquistare. Questa è una sanità che va al contrario, a seguito appunto della riforma del nuovo piano sanitario voluta dalla Regione Abruzzo.